Il 27 gennaio si celebra la giornata della memoria. In quel giorno infatti, nel 1945, le truppe russe liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. L'evento annuale commemora gli orrori e gli abusi della furia nazista ai danni del popolo ebraico. Tante le iniziative messe in campo per ricordare le vittime della Shoah, in particolare dall'istituto Carmine Silos e dal comune di Bitonto. Gli studenti della terza A del liceo, data l'emergenza sanitaria, hanno realizzato il video oltre il filo. Il comune di Bitonto poi si è unito ai comuni dell'associazione Cuore dell'Abbazia Puglia con un evento promosso dal teatro pubblico pugliese. Il risultato è stato uno spettacolo teatrale musicale Josl Rackover si rivolge a Dio, che è andato in onda domenica 31 gennaio sulle pagine Facebook dei comuni di Bitonto, Putignano, Acquaviva e tanti altri della provincia di Bari. Infine l'assessore della cultura Rocco Mangini ha pubblicato sulla sua pagina social dei pensieri e delle considerazioni per non far sentire la mancanza dell'evento Memento, che il comune di Bitonto cura ormai dal 2013.